Ciao a tutti ragazzi, io sono Matt e oggi ci ritroviamo sulla Desert Craft Allora ragazzi, oggi andremo a finire, almeno spero, la pagina delle quest riguardante le quest tecniche Quindi ho già avuto modo di prendere gli oggetti che ci serviranno per fare il tutto ciò Quindi non perderò tempo Allora mettiamoci innanzitutto l'armatura Che l'ho tolta giusto per far vedere se filo è figo con l'ala nera Allora dovremo craftare innanzitutto il boiler a carburante solido E poi vedremo anche come funziona, ma penso che sappiate già come funzioni Allora vorrà una fornace Dei brick normali e un fire charge Ah, il fire charge si fa con una gunpowder, una blitzpowder e il coal Molto semplicemente, non è niente di che Poi il resto l'avete già visto migliaia di volte Poi per fare le tank del boiler Il low pressure Low pressure o come cacchio si pronunci Dovremmo utilizzare l'iron plate In questo modo qui Adesso ovviamente non ne farò 32 Perché non mi serve farne così tante Però magari se vogliamo usare il boiler a carburante solido Magari lo vedremo nella puntata Nelle prossime puntate Però per il momento ne facciamo una O comunque il tanto che mi richiede Ah, pure il commercial steam engine mi fa craftare Allora vediamo un po' Come si crafta Come si crafta Commercio Steam engine Ok, iron plate Glass, iron gear Molto semplici Non è niente di che Eh, c'ho già l'iron plate Il vetro ce l'ho qui Se non sbaglio Giusto? Ok, il vetro Quanti ne vuole Ne vorrà uno solo Spero Ok, perfetto Andiamo subito qui dentro Abbiamo del ferro messo da parte Lo metteremo Allora, innanzitutto tu bloccati E anche tu E lo mettiamo A smeltare Ne mettiamo uno Tanto basta Ah, come potete vedere Non so se nella puntata precedente Ve l'ho già fatto vedere Ma ho collegato La tank della lava Del nether Eh, alla smelteria Della tinker Così almeno non dobbiamo Mettergli la lava manualmente Ogni volta Allora, vediamo che punto è Nel nether Magari prendiamo Il casting Dei gear Così almeno Li facciamo molto più velocemente Sì, se prendo anche il tavolo Vado ancora più veloce Eccolo qui Casting table E andiamo a posizionarlo Qui dietro Vediamo se ha fatto Ancora no Che palle Quanto ci metti? Ah, sta per smeltare Su, 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 su Olè È smeltato Ci facciamo le nostre due Iron gear No, ma dimmi te Ma porca Ma se fermo il tubo Ma perché cavolo esce lo stesso? Ok, abbiamo il nostro molten iron Andiamo subito Immediatamente a fare le nostre gear Prima che magari qualche altro tubo Mi rubi il molten iron Uno E due Very easy Allora, vediamo se riusciamo a craftarlo così Nope Ah, forse perché mi manca Sì Il pistone Dovrei averli qua dentro Se non erro Nella borsa blu Eccolo qui Tanto me ne servirà un altro Perché sicuramente mi farà fare l'altro Di Steam Engine Allora Vettro Iron plate Perfetto Vediamo un po' Dov'è il questbook Ok Questo motore Diversamente dal Obist Steam Engine Produce Reston flex Su TIC Solamente se gli mettiamo Dello steam Tramite i tubi Dei fluid act Ovviamente Però Lo faremo Magari Più avanti Perché adesso Sinceramente Non mi serve Abbiamo Da ricordarci Che abbiamo la Mechanism E non l'abbiamo ancora utilizzata Ma Sicuramente La utilizzeremo Perfetto ragazzi Dopo aver craftato Quello Dovremo craftare I Liquid Fueled Boiler Firebox L'Hig Pressure Boiler Tank E l'industria Steam Gine Che sicuramente Scrafterà con le Steel Plate Quindi per non sbagliare Andiamo a fare Le Steel Plate Allora Tanto sentiamo Il rumore Dell'industria Un po' di lag Oh alla grande E le nostre Steel Plate Allora Vediamo un po' Quindi Fuel No Boiler Ok Si crafta in un modo Un po' più Complicato Però abbiamo già I nostri Oggetti da crafting Perché mi sono già Attrezzato Quindi Facciamo così E poi così Niente Facciamo così Quindi File Charge Steel Plate Full Mace E Iron Bars E Iron Bars E Iron Bars A noi Il secchiello Che Abbiamo qui dentro Ok Ok ragazzi Dopo aver craftato Il Liquid Fueled Boiler Firebox E tua nonna Dovremo craftare Like pressure Boiler Tank Che si crafta Come Era abbastanza Intuibile Con le Steel Plate Ok Dovremmo craftarne Solo uno Perfetto Poi l'industria Steam Engine Che sicuramente Sarà una roba Barbosa Vediamo Ma 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 Ah no 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 Abbiamo tu E se Pfff Ha 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 Ormai non ci Non temiamo più Lo Steel E Più che altro La Redstone Mi servirebbe Allora La Redstone Dovrei averla Dentro il Qui dentro Ok Poi il pistone Ce l'ho già Lo Steel Ce l'ho già Ci manca La Thin 1 2 3 4 Con cui faremo Questo oggetto Qui E poi faremo I nostri Steel Gear Che purtroppo Non si possono Fare molto facilmente Con la Thinker Purtroppo Allora Dovremmo avere tutto Sbam Industrial Steam Engine Ok Ci da tre Liquid Fuel Lead Boiler Firebox Probabilmente Perché sono più Difficili Del Solid E anche perché Il Coal O il Charcoal Possiamo farmarlo E la lava No Cioè si Posso farmarla Dal Nether Però purtroppo Dovremmo stare Attenti Alle Can Quindi se si svuotano Se finiscono le can Dovremmo andare A riempirle Di nuovo 15 15 Quintanto mi vibra Il telefono Vediamo un attimo Chi mi scassa I maroni Ok 15 Da altro Altri Boiler E altri Golden Fluid Piper Che per il momento Non mi interessano L'unica cosa Che ci rimane Da fare È la Quest Della Mericulture Quindi Liberiamoci di tutto Questo che non ci serve Allora Questo magari Le prendiamo No Tu vieni Che mi servi Proprio tu mi servi Allora No Anche tu mi servi Grazie Anche tu Queste cose Le mettiamo qui dentro Poi ovviamente Il boiler Vedremo come utilizzarlo Perché voglio utilizzarlo Dato che l'abbiamo fatto Poi abbiamo Possiamo farlo Molto più facilmente Qui Che nella Let's Technique A proposito Della Let's Technique C'è un importante Aggiornamento Da fare Poi vabbè Lo vedrete Con la Let's Technique Perché Se avete notato Ovviamente Non Non ho continuato La Let's Technique Perché Stavo facendo Proprio la Desert Volevo finire In fretta La Desert Craft Per portare sul canale Nuove serie Allora Poi vabbè Di questo Magari ne parliamo Più avanti Quindi Prima di Andare avanti Ovviamente Andare a cercare Gli oggetti Della Miriculture Che ci servono Mamma mia Sei proprio Inguardabile Sephiroth Allora Dovremmo andare a cercare Degli oggetti Oh E questo Living Livingwood Si Magari ci pensiamo Più tardi Ah Poi vi spiego Anche perché C'era Livingwood Il Blah 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 Il Livingwood Lì Allora Ragazzi Allora 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 Ci servirà L'Ancient Sand Il Dryad Blue Coral E la Coral Rock Quindi 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 Si trova In mezzo All'oceano Ma Prima di Andare a A cercarlo Mi faccio Un backup Del salvataggio E vi spiegherò Il perché Adesso Fra un po' Eccomi ragazzi Allora Perché ho fatto Un backup L'ultima volta Che sono andato A cercare La A fare Questa quest E Quindi Vuol dire Che l'avevo Già Fatta Questa quest Purtroppo Mi è Mi si è Bagato Il salvataggio E non riuscivo Più A Ma perché Sto nuotando Scusa E non riuscivo Più A ricaricarlo Non so Per quale motivo Però Non ne ho La più pallida Idea Allora Prima di Fare Altre Cazzate Facciamo Così Così si vede Un po' Meglio C'ho la Night Vision Non la sfrutto Perché mi stai Laggando Ah perché Mi sta caricando Il mondo Probabilmente Vabbè Te lo faccio Caricare Tieni Aspettate Faccio una cosa Molto più Interessante No vabbè 12 c'è anche Dovrebbero bastarti E se non ti bastano 12 c'è Più che altro Mi sono dimenticato Di prendere Materiale Da costruzione Che cazzo Vabbè Prendiamoci un po' Di Cracket Sand Perché devo mettere La pompa Devo mettere E ovviamente Non mi sono portato La leva Facciamo così Cracket Sand Dovrebbe bastare Andiamo a prenderci Dei bastoncini Cioè da quant'è che Non distruggevo Un Un Deadwood Da una vita Allora Vediamo Che stupido Io c'ho le pozioni Del water breathing Ma Ma Vaffanculo Ma torna a casa Torna a casa Ah qui ragazzi Per chi non lo sapesse Questo cubo di ossidiana L'ho utilizzato Per affrontare Il Wither Praticamente Mi sono messo dentro Due colpi Di questa Grande Spadona E addio Wither E' stato proprio Semplice Abbatterlo Questa porta La chiudiamo Ah qui poi Ragazzi Tra l'altro Ho preso uno stack Di Cerco Al poco fa Per alimentare Quei Cazzo Non ci sono Un Due Tre Si sto perdendo Un po' di tempo Ragazzi Però Quando alcune cose Vanno fatte Vanno fatte Allora Volevo fare Si La Water Breathing Potion Quindi La No Non mangiarlo Non avere Non fare Quella cazzata Lì Quanto mi dai? 15 minuti Si E a voglia Dovrebbero bastare Allora Più che altro Mi serve Una bottiglia D'acqua Dovrei averle Qui dentro Perfetto Diciamo Così Così E così E così Ulala Allora ragazzi Quindi Questa Specie di Tutta Perfetto Quindi la tuta Praticamente Non mi serve Niente No Tu vai lì Facciamo così Vogliamo Che facciamo Più in fretta Allora Dovremmo cercare Quindi L'Ancient Sand Il Dryad Blu e Coral Facciamo caricare Un po' il mondo Non so perché Mi laghi Così tanto Ah tra l'altro La cosa brutta È che ogni tanto Spawnano Dei mob Qui Questo è Ancient Sand O no Che cos'è No forse Limestone Infatti L'avevo Vista Qui Ecco qua Perfetto Allora Prendiamoci Il nostro Corallo Sì come cacchio Fanno gli Andermen A trasportarsi Qui se L'acqua La odiano Ah C'è quello Piccolino Eh vabbè Rimani con me Mi fai compagnia Allora Questo è Se non sbaglio Ma quanto Puoi essere Idiota Ma Che cacchio Perché queste Correnti Mi spingono Via Venga Le odio Le odio Mollami Cioè Non ha Senso No Questa È sabbia Normale Questa Pure Oh Mi devi Mollare E questa Dovrebbe essere Ancient Sand Vediamo se abbiamo Preso tutto Sì Continuiamo a Prenderne Perché Ci servirà Da craftare Un oggetto Con cui Che si crafta Praticamente Bruciando Questa sabbia Qui Che per quanto Me ne ha dato Undici Si dovrebbe bastare E questo è L'hambstone Ora dovremmo Cercare Le bollicine Oh Ecco ragazzi Tra l'altro Un po' di lag No Non farlo Ecco Una volta Trovate le bollicine Dovremmo scavare Verso Il fondo Ovviamente Se Ce lo Permettono E state attenti Perché qui Verrete avvelenati Probabilmente E infatti Ecco qua Forse ho sbagliato A non portarmi Una pozione Di Rigenerazione Allora facciamo Così Non evitare Che l'acqua Ci rompa Le wallere Poi Facciamo Così Ci craftiamo Una leva Facciamo così Aaaaaah Che cazzo Sta succedendo E' esploso Tutto Cosa Che cazzo Che è qua sotto Ok Ragazzi Mi sono tipo Mi è tipo Venuto un infarto Allora Perché non c'è più Non vorrei che adesso Non ci sia più Il natural Cazzo Quello che Vediamo se Captiamoci Un'altra Leva No Non dirmelo Quella cazzo Di lava Mi ha fatto Andiamo via No Perché Mi ha Crash Di nuovo Che palle E mo me lo fa Di nuovo Mo me lo fa Di nuovo Alla ricerca Di altre Bollicine Sì Proviamo a fare Un altro Backup Trim Ragazzi Altre Bollicine Speriamo Vada meglio Di prima Oh Cazzo di Miraculture Di merda Sennò Non ci sia la lava Stavolta Ok Non sembra Eserci lava Facciamoci Facciamoci Una cosa Molto intelligente Ok Questa è tutta Red sand Beh per forza Deve rompere Le sand Deve rompere Allora Tappiamoci L'acqua Prima di Iniziare A fare Minchiate Così Allora Dovrete Allargare Un po' La zona Perché Se no Forse anche Per quello Che la pump Mi ha Fatto esplodere Il tutto Perché Non avevo Allargato Prima di Ma questa Abyssalstone Bella Il blocco Anche pure E bello Da utilizzare Come Decorazione Ah vediamo Si Dovrebbe esserci Ancora Il gas Tra l'altro Ah vediamo Di fare un po' In fretta Perché Ah si C'è ancora Il gas Dovrebbe esserci Non è che Finisce Da un momento All'altro Allora 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 Questo gas Praticamente Ci serve Giusto Per alimentare Le nostre Bombole Di ossigeno Cosa che poi Non utilizzeremo Mai Ma Perché tanto In fondo al mare Non ci andrò più E poi In ogni caso C'è le pozioni Di water breathing Non mi servono Praticamente A niente Le bombole Tanto Bello Come Forse Anche un po' Più lenta La discesa Della sabbia E lo so Che ti fa male Però resisti Allora Questo spazio Dovrebbe bastarti Adesso Allora Ti metto Già la tank Così non rompi Le swara Wow Vediamo se Così Le No Tu molla Così Ok Stiamo Stiamo riempendo Le tank Di Air Natural gas Non di air Cazzo sto dicendo Quindi continuiamo Ad alimentare La pump Ovviamente Non troppo Tanto Così gli basta Quanto 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 Ce ne sta Facendo 11000 Millibucket Qua 10000 Riempiamo Un altro po' Giusto per averne Ok Qua 16000 Le prendiamo Subito Ne riempiamo Un altro po' Quindi queste tank Non le riempie Questa La già riempita Riempiamo Giusto queste tank E basta Ok ragazzi Non perdo tempo A farne altro Perché tanto Non è qualcosa Che mi serve La pump Possiamo anche Lasciarla lì Allora Qui direi Magari Di utilizzare Quel waypoint Uno che mi manca Dovrebbe essere Nella bianco Ecco qui Diciamo Fermo 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 Così E lo chiamiamo Natural Gas Così se ce ne serve Qualcosa Qualche altro Abbiamo la nostra Waypoint Ora torniamo A casa Utilizzando il nostro Compasso Quindi ragazzi Una volta a casa Abbiamo il nostro Natural Gas Solo che Nel quest book Ci chiedeva Di Dov'è Era qui dentro Siamo al 93% Ci chiedeva Di fare La Battle of Natural Gas Allora La battle of Natural Gas Facciamo Natural Gas Direttamente Si crafta Crashando Con minecraft Ovviamente Crash Permettendo Di minecraft Allora Bottle of Natural Sperando che Non mi Crash Dovremmo Craftare La bottle Of Come si Chiama L'empty Battle Américulture Che Si crafta Come la Bottiglia Normale Di minecraft Ma con Lit Resistance Glass Che si Crafta Bruciando L'Ancient Sand Che abbiamo Raccolto Prima Quindi Prendiamo La nostra Ancient Sand Ovviamente Se minecraft Non lagga E me lo Permette Perché Stai Laggando Minecraft Me lo Spieghi Allora Un blocco Di charcoal Può Bastare Andiamo In una Fornace Allora Facciamo Una cosa Molto Intelligente Dato Che Ora Vuole Rompere Le scatole E Laggare Facciamo Così E basta Abbiamo Del vetro Normale Ma non ci serve Ci serve Questo Ok Quindi 3 heat Resistant Glass Per noi Facciamoci Le bottiglie E Possiamo Andare A raccogliere Il nostro Natural Glass Facendo Semplicemente Così E anche Così Allora Queste Bottiglie Hanno La Capienza Del doppio Rispetto Alle Bottiglie Normali Quindi Anziché 1000 Millibucket Riempono 2000 Millibucket Non ci serviranno A niente Ma Comunque Era giusto Per dirvelo Quindi Vediamo un po' Arriviamo Al Quanto Arriviamo Al 96% Quindi Cosa ci chiede Di craftare Finiamo Questa pagina E Basta E ciccia Allora Un air Compressor Base Allora Magari Liberiamoci Di un po' Di roba Che non Ci può Servire Allora Queste Le rimettiamo Dentro Poi Ah Questa Mi può Servire Tu mi Puoi Servire Tu no Perché mi ha Dato Limestone Che cosa Me ne faccio Della Limestone Io La cobblestone Tutto Come Troppo Scemo Questo Gioco Con le Quest Allora Questa La mettiamo Qui dentro Anzi No Facciamo Così Stiamo Dentro Prima I Waypoint Compass E poi Lo zainetto Quindi Ci chiedeva Un air Compressor Base Un air Compressor Top E uno scuba Tanker Quindi Vediamo Oh Mi si sta bruciando Il computer Accendiamo Un po' Di ventole Se no Mi si Mi esplode Il computer Allora Air Compressor Vediamo Come si Craft Le sheet of aluminium Titanium Ingoth E iron wheel Forse le iron wheel Ce le ho qui dentro Perfetto Però mi servono Le sheet of aluminium Shit Ne ho alluminio Qua Alluminium Brass Forse le ho Qui dentro Speriamo Ok vediamo Se qui dentro Me le fa No Vediamo Stai prendo Per il culo Te lo devo mettere Per forza Qui 16 Shit Of aluminium Per noi Allora Poi abbiamo bisogno Del titanio Forse l'ho messo Qui dentro No Allora Vediamo Come posso fare In fretta Il titanium Senza passare Dal Eh si Nether titanium War Peccato che Si L'inferna Blast Furnace Niente Non possiamo Fare E lì Non ce l'avevo Giusto Ah mi viene La gratella La schiena Andiamo Nella zona Smelteri Che forse ho Del titanio Nascosto Qui dentro Sperando che Non mi serva Per altri Crafting Uh Quattro lingotti Di titanio Refined Steel E Quella che cos'era Quella polvere Magnesio Perfetto Quindi possiamo Craftare Altro Allora Facciamo Air Compressor Compressor Tua nonna Ok Uno Sicuramente Non starò Sprecando Materiali E Che cos'è Questa cosa Ma stiamo Scherzando Pistone Scito Falluminio Conico No Ma quando Mai E La scuba Tank Ah vabbè Niente di Meno male che ne ho fatto un po' di più Di shit off aluminium Allora Proviamo a fare Quel cacchio di Titanio Che palle Però Ma che palle Opla Perfetto Dovremmo poter Craftare Il tutto Quanto Quindi Vediamo Scuba Ci serve Del colorante Giallo Che purtroppo Non ho qui Vicino Andiamo a prendere Dei fiori gialli Ok Così dovrebbe bastare Ah Stavo per volare Allora Qua c'è lo strumento Che mi può servire Facciamo così Molla Grazie E questo Lo rimettiamo Dentro Poi 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 Fammi entrare qui dentro Grazie Facciamo la scuba Tank O E uno Poi mi servirà Il compressor Compressor Top Quindi mi servirà un pistone Per il momento Facciamo Allora Un lingotto di ferro Due redstone Non ho i panini Ce li ho qui dentro Grazie Prego Mangia 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 Che fa bene Tra un po' mi faccio un panino Sì Ho una fame Porca miseria Facciamo così Abbiamo la nostra Titanium Battery Ah Interesting Allora Occupa 100.000 Arreston Flux Come Stack Diciamo Allora Cooling component Per fare il cooling component Ci servono Un, due, tre E uno di questo Poi Abbiamo bisogno Di un pistone Che troviamo qui dentro Uno Ho detto Non 540 Poi Ah Che cazzo Così dovrebbe essere Nope Così Quindi Cooling component Questo E poi Il pistone Tre di questi Ovviamente Sicuramente Ci chiederà di Craftare I Ah, due Me ne dai Ah, pure Va bene Ci chiederà di Craftare Qualcos'altro No, un altro Di questi Ma che due No Ma io ti ammazzo Ma porca miseria Quanti Titanium vuoi? Due E io ne ho Zero E beh Ma è logico Che io ne devo avere Zero Ok E molte Titanium Per noi Sicuramente Ci chiederà di Craftare La La Maschera Vedrai La muta Pure gli occhiali No Questo Volevi Un altro Te l'ho Craftato Ora cosa vuoi? Cacciare una balena? E ti pareva Ma porca Miseria No ragazzi Voglio continuare Voglio Finire Questa Cavolo Di Pagina Di merda Perché tanto Sono tutti Crafting Di oggetti Che non mi serviranno Mai più Allora Scuba Mask Wet Suit E Flips Ah pure Il delfino Mi sono avvicinato Allora Flippers 18 Lingoti Di Cos'è Neoprene Perling Sac Ma porca Miseria Hard Plus No Ma io Non ci credo Limestone Oppure Etanolo Natural Gas 4 Ce ne servono E lui Me ne dà Una Con la Limestone E 5000 Di Natural Gas Ma è Ovvio Noi adesso Ne abbiamo Raccolto Quanto Ho 6000 Millibucket Dentro Le bottiglie Poi qui ne ho 3x16 Si dovrebbe Bastarci Poi abbiamo La Wet Suit Che ovviamente Ah vabbè ma Questo è facile Non è niente di che E la Cos'è che poi ci chiede Di craftare La Scuba Mask Ah no Quella è della Mechanism Probabilmente Non ce lo fa Craftare E poi vabbè Trasparente Plastic Cazzo Cioè io devo Sprecare Ah no 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 Ne posso anche usare 1000 Millibucket Con un secchio Con un glass Me ne da uno A noi ce ne servono Due Allora quindi Craftiamo Un po' di questi Neoprene Allora ragazzi Abbiamo tutti Gli oggetti Che ci servono Allora Per fare Un rapido Riepilogo Quindi Per fare La Trasparente Plastic Che ci servirà Per fare La scuba Mask Vi basterà Utilizzare 1000 Millibucket Di natural Gas All'interno Del watt E inserirvi Un vetro Fate attenzione Che il natural Glass Non potete Prenderlo Con i secchi Ma dovrete Prenderlo Con le bottiglie Vuote E poi vabbè Mettetelo Come se fosse Un secchio Cliccate col destro Sul watt E lo buttate Come se fosse Un secchio E otterrete La trasparente Plastic Poi Per ottenere Il neoprene Vabbè Questo è un crafting Semplice Della Di una Crafting table Però state attenti Che qui C'è una Glass Battle Of natural gas Quindi dovrete Sprecare Natural gas Anche per fare Il neoprene Poi Per fare La wet No Sempre per fare I flippers Se non sbaglio Abbiamo bisogno Delle Hard Plastic Che si craftano In questo modo Qui O con l'etanolo Ma non ve lo consiglio È un processo Troppo lungo Oppure Con 5000 Millibucket Di natural gas E 4 limestone Dovrete aspettare Un bel po' Ma un bel po' Quindi cominciamo A craftare Il tutto Quindi Craftami Queste Poi Wet Tua nonna No no Grazie Queste preferisco Tenermele E poi Ci manca La scuba Mask Dovremmo craftare Queste due E poi Di nuovo Queste Ok ragazzi Abbiamo Completato Tutto Almeno Credo Ci da 8 rutai Lore E 32 Limestone Qui Abbiamo Completato Tutto Perfetto Abbiamo Completato Tutto Non ci manca Più niente Qui Finalmente 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 Gli ultimi Semi Che ci mancano E saranno Che cazzo No vabbè Questi sono facili Però porca puttana 16 Extreme Essence 64 Blocchi Di Redstone Perché poi Vabbè Ci sblocca Il certus Quartz Seed E I Certus Quartz Seed Vabbè Osmium Bloc Questa addirittura Ce l'ho già Ce l'ho già Allora Last Grid Pride E Glutony Proviamo a vedere Ma mi sa che c'ho già tutte Quelle rune Last Glutony E Grid Mi sembra di averla Perché L'ho utilizzata Per craftare Delle lenti Però vai a vedere Dove l'ho messo adesso Poi fammi vedere Magari mi ha sbloccato Qualcos'altro The life of the world Ancora zero How the world Change Ancora Vabbè Sono le stesse The way The world feels Vabbè La towncraft Cosa che Ci manca Ma Completeremo Ovviamente Qui niente Ancora zero Avevo ragione Le quest Le quest Della towncraft Della witchery Ma Ovviamente Non sono così Lunghe Come possono essere Queste dell'americulture Perché queste americulture Ho fatto molto più in fretta Quelle delle bullcraft Che quelle dell'americulture Sono tre Se non sbaglio erano tre quest Del cavolo Della americulture Sì Uno due tre Tre quest Tre quest Del cazzo Mi hanno fatto Perdere tutto Questo tempo No Ma non esista Vabbè Ragazzi Io sono Matt Ci vediamo Alla prossima